Luca, la doppietta più importante per te e per noi? Sì, è stata una bellissima emozione, una bellissima partita. Sono contento di essere riuscito a segnare questi gol che ci hanno permesso di passare il turno. Veramente è una serata perfetta. E adesso aspettiamo il prossimo avversario. Sì, adesso noi abbiamo fatto il nostro. Stasera festeggiamo, poi domani vedremo contro chi giocheremo mercoledì. Però chiunque ci capiti, noi siamo consapevoli di quello che possiamo fare e non vediamo l'ora di giocare la semifinala. L'abbiamo approcciata da grande squadra stasera. Sì, oggi era una partita tosta sicuramente. C'era un grande pubblico, un grande ambiente, un campo bellissimo. Però abbiamo avuto personalità, personalità di giocare, di comunque fare la nostra partita, di cercare di fare gol e siamo stati premiati.